Buongiorno e ben ritrovati a Didacta Edizione Puglia a Bari. Sono particolarmente emozionata di partecipare con APAS a questa fiera a Bari dedicata al mondo scuola. Da tantissimi anni APAS lavora nel mondo scuola, sono più di 15 anni e ritrovare ogni volta i docenti che ci vengono a trovare a chiedere informazioni e ci dimostrano tutto il loro apprezzamento per il lavoro che facciamo insieme a loro è davvero un grande onore per noi. APAS si occupa di certificazioni informatiche, quindi abbiamo portato come offerta formativa le certificazioni informatiche dedicate al mondo scuola. Per mondo scuola pensiamo ai docenti, ma non soltanto a loro, anche a dirigenti scolastici e personale ATA. Il punto di forza della nostra certificazione è la piattaforma di Dasco, la piattaforma telematica sulla quale eroghiamo la nostra certificazione. Su questa piattaforma tutti gli utenti, quindi docenti, personale ATA o dirigenti scolastici hanno un account personale privato all'interno del quale trovano tutto il materiale didattico, si possono formare in modo da superare brillantemente l'esame di certificazione e conseguire il titolo APAS spendibile in bandi, daduatori e concorsi.